Olé! Ci vuole un olé per questa pizzeria! Un olé per l'impasto super digeribile! Un olé per la scelta tra svariati tipi di pizza rigorosamente cotta al forno a legna! Un olé per i fritti, gli hamburger e i calzoni ripieni! Un olé per i fantastici salti in bocca! Pizzeria da asporto olé! Ingredienti ricercati ed accostamenti prelibati! Se poi a questo aggiungiamo la gentilezza e la professionalità del personale, ci vuole un altro super olé! Pizzeria da asporto olé! Viale della Repubblica, Piazzale Stazione IP, Sulmona Aperta a pranzo e a cena, prenota al 331 42 65 724 Olé!